A questo punto il problema è quali sono le azioni tecnologiche che l'uomo compie? Le azioni che l'uomo compie sono praticamente quelle che vedete messe all'interno di quel riquadro progettare, produrre, distribuire, consumare, dismettere, riciclare e rinaturalizzare queste sono le azioni che dal punto di vista tecnologico l'uomo compie per modificare, per agire sulla realtà chiaramente lui, noi, nell'agire sulla realtà aggiungiamo alla realtà naturale un'altra realtà questa azione di aggiunta alla realtà naturale una realtà artificiale è il contesto che noi dobbiamo in qualche modo sviscerare e far osservare e imparare a far osservare ai ragazzi Ora, se quelle sono le azioni, progettare, produrre, distribuire, consumare, dismettere, riciclare e rinaturalizzare i bisogni che l'uomo o le esigenze che l'uomo ha normalmente nella quotidianità sono queste abitare, vestirsi, nutrirsi, conoscere, esprimersi, muoversi e la salute e il ben stare quindi già in questo modo noi abbiamo collocato e inquadrato gli elementi di cui dobbiamo occuparci ora, di fatto questi sono gli elementi, diciamo essenziali, non sono i nuclei fondanti della tecnologia però sono i contesti e gli elementi che caratterizzano i luoghi di esplorazione che dovremmo fare insieme con i ragazzi e questa operazione dovrebbe essere fatta lungo tutto il percorso formativo dall'infanzia fino ad arrivare almeno ai 16 anni e l'operazione che viene fatta non deve essere di carattere tecnico cioè capire come funziona la macchina, il macchina caffè al posto dell'automobile dal posto di, e poi se è un bambino piccolo gli facciamo vedere solo il giocattolino a un bambino più grande gli facciamo vedere la centrale europea ma dobbiamo muoverci in una logica di complessità come accennava prima come forse aveva anche discusso le volte precedenti discutere sempre di complessità vuol dire non discutere in modo complicato ma in modo complesso vuol dire in modo articolato dove più elementi concorrono a raccontare, narrare raccontare e narrare soltanto due concetti e due azioni fondamentali raccontare e narrare la tecnologia ora che cosa succede? prendiamo ad esempio l'abitare l'azione tecnologica che viene fatta sull'abitare immaginiamocela adesso anche se non entriamo nel merito della questione prevede sicuramente una progettazione sicuramente un'azione di produzione sicuramente un momento in cui questo oggetto che viene costruito viene distribuito o venduto o consegnato ci immaginiamo queste operazioni e poi lo si consuma così lo si dismette perché a un certo punto finisce il suo ciclo di esistenza e qui c'è un problema di cultura della dismissione adesso parlando di abitare la cosa è un po' più complicata ma parlando di una lavatrice diventa più facile capire la cultura della dismissione per cui noi a volte abbiamo degli oggetti che continuano a funzionare ma che probabilmente è meglio dismetterli perché altrimenti quelli ci procurano dei costi di manutenzione e soprattutto di mantenimento che sarebbero troppo alti perché sono ingegnerizzati, pensati in un periodo, in un'epoca dove ad esempio l'elettricità costava di meno per cui adesso non è più necessario oppure per cui il problema dell'ambiente non era preso in considerazione per cui il saper quando di smettere un sistema, un artefatto per sostituirlo con un altro è estremamente importante e attenzione parliamo non solo di oggetti parliamo anche di organizzazione cioè quando un'organizzazione ormai vecchia ha raggiunto al suo massimo di maturità devo essere in grado di prevedere quella futura e devo essere in grado di poterla saper sostituire non posso fare continuamente il lifting su questa organizzazione quando di fatto ho bisogno di essere modificata ecco che allora vedete che lo spettro della tecnologia non è uno spettro che è legato solo e esclusivamente alle cose ma anche ai gesti, agli atti che in qualche modo implicano organizzazione perché tecnologia e organizzazione sono fortemente legati e connessi ora uno dice a un bambino dell'infanzia cosa gli vado a raccontare? a della primaria cosa gli vado a raccontare? è ovvio che tutto deve essere confezionato in un modo dove la vostra professionalità deve essere spesa ma deve essere spesa in un campo che è assolutamente nuovo questo in questo caso specifico in qualche modo prevede la necessità di modificare fortemente quello che è il nostro modo di vedere la scuola e di pensare alla scuola ed è qui che probabilmente quello che ci viene detto quando si parla di curriculum verticale per competenze dove emerge che cosa? il contesto reale questo è palesemente evidente la tecnologia offre occasioni per intercettare contesti reali e su quei contesti che noi possiamo impiantare le competenze perché quelli sono fertili per poter impiantare competenze